Sì, perché la Chiesa Ortodosso Russa ha partecipato sempre in questi convegni dall'inizio, perché la Chiesa Ortodosso è un tema importante. La chiesa rappresentano non solo 50% della popolazione del mondo, ma credo che in religiosi rappresentano una più grande proporzione, sicuramente per la Chiesa, ma non rappresentano in la leadership. E credo che è molto importante, è molto necessario. Abbiamo bisogno di costruire i bordi tra i vecchi e ragazzi, e di pensare e di credere. Io credo che quando possiamo trovare la possibilità di raccogliere, che le regole religiosi non sono di uccidere, non di distruggere, ma di aiutare, di aiutare, di aiutare, anche se sei giù o non, se sei cristiano o non, se sei muslim o non, ma questo è un modo in cui possiamo mostruirlo a tutto il mondo. La chiesa rappresentano non solo 50% della popolazione del mondo. Abbiamo dunque bisogno di religione per rispondere alla sete di pace del mondo e alla sete di infinito che abita il cuore di ogni uomo. Parmi tu�o il risp специale Parmi le frame non restr і al chiaro dirà l'isesti, arrows, gli attivi. Parmi le soldi non scopo da dà portare ab willkommenly, o che passengersi vingini 좋identola per la figlia, e per la figlia dell'鄒, ولم تتورع هذه الدعوات أن تغبط ببدائلها الجديدة إلى مستوى تعف عنه الحيوانات والدواء فضلا عن ذوي الفطرة النقية والعقود السليمة ستكون هذا الموقع مجتمعًا بالطفل هناكه يجب أن تغبط بجاند من كبير المنزل يجب أن يجب علينا أن تغبط بجاند من الفئة هم مثلاً مثلاً على المنزل Posso dire che è stata una cosa molto inaspettata questa intervista e è chiaro che non è utile per l'unità dei cristiani. Grazie per la visione!